Quarta Domenica del Tempo Ordinario, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo, Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente, Taci, esci da lui, e lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda, Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri, e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il brano evangelico di questa Domenica presenta Gesù che, con la sua piccola comunità di discepoli, Entra a Cafarnau, la città dove viveva Pietro e che, in quei tempi, era la più grande della Galilea. E Gesù entra in quella città. L'Evangelista Marco racconta che Gesù, essendo quel giorno un sabato, si recò subito nella sinagoga e si mise a insegnare. Questo fa pensare al primato della parola di Dio, parola da ascoltare, parola da accogliere, parola da annunciare. Arrivando a Cafarnau, Gesù non rimanda l'annuncio del Vangelo, Non pensa prima alla sistemazione logistica, certamente necessaria, della sua piccola comunità. Non inducia nell'organizzazione. La sua preoccupazione principale è quella di comunicare la parola di Dio con la forza dello Spirito Santo. E la gente, nella sinagoga, rimane colpita, perché Gesù insegna loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Che cosa significa con autorità? Vuol dire che, nelle parole umane di Gesù, si sentiva tutta la forza della parola di Dio. Si sentiva l'autorevolezza stessa di Dio, ispiratore delle sacre scritture. E una delle caratteristiche della parola di Dio è che realizza ciò che dice. Perché la parola di Dio corrisponde alla sua volontà. Invece noi, spesso, pronunciamo parole vuote, senza radice, o parole superflue, parole che non corrispondono alla verità. Invece, la parola di Dio corrisponde alla verità. È unita con la sua volontà e realizza quello che dice. Infatti, Gesù, dopo aver predicato, dimostra subito la sua autorità liberando un uomo, presente nella sinagoga, che era posseduto dal demonio. Proprio l'autorità divina di Cristo aveva suscitato la reazione di Satana, nascosto in quell'uomo. Gesù, a sua volta, riconobbe subito la voce del maligno e ordinò severamente. Taci, esci da lui. Con la sola forza della sua parola, Gesù libera la persona dal maligno. E ancora una volta i presenti rimangono stupiti. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La parola di Dio crea in noi lo stupore. Possiede la forza di farci stupire. Il Vangelo è parola di vita. Non opprime le persone. Al contrario, libera quanti sono schiavi di tanti spiriti malvagi di questo mondo. Lo spirito della vanità, l'attaccamento al denaro, l'orgoglio, la sensualità. Il Vangelo cambia il cuore, cambia la vita, trasforma le inclinazioni al male in propositi di bene. Il Vangelo è capace di cambiare le persone. Pertanto è compito dei cristiani diffonderne ovunque la forza redentrice, diventando missionari e araldi della parola di Dio. Ce lo suggerisce anche lo stesso brano odierno che si chiude con un'apertura missionaria e dice così La sua fama, la fama di Gesù, si diffuse subito ovunque, in tutta la regione della Galilea. La nuova dottrina, insegnata con autorità da Gesù, è quella che la Chiesa porta nel mondo, insieme con i segni efficaci della sua presenza. L'insegnamento autorevole e l'azione liberatrice del Figlio di Dio diventano le parole di salvezza e i gesti di amore della Chiesa missionaria. Ricordatevi sempre che il Vangelo ha la forza di cambiare la vita. Non dimenticatevi di questo. Esso è la buona novella, che ci trasforma solo quando ci lasciamo trasformare da essa. Ecco perché vi chiedo sempre di avere un quotidiano contatto col Vangelo, di leggerlo ogni giorno, un brano, un passo, di meditarlo e anche portarlo con voi ovunque, in tasca, nella borsa, cioè di nutrirsi ogni giorno da questa fonte inesauribile di salvezza. Non dimenticatevi, leggete un passo del Vangelo ogni giorno. È la forza che ci cambia, che ci trasforma, cambia la vita, cambia il cuore. Invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria, colei che ha accolto la parola e l'ha generata per il mondo, per tutti gli uomini. Ci insegni lei ad essere ascoltatori assidui e annunciatori autorevoli del Vangelo di Gesù.